salve lettori di windows blog italia oggi faremo la prima recensione di un gioco che troviamo nel windows store di windows 8 consumer preview stiamo parlando di hydro thunder hurricane e questo gioco che noi qui teniamo già aperto non è altro che un gioco di corse di motoscafi ma anche per essere un'applicazione metro ha una grafica davvero ben fatta e ora vogliamo mostrarvela anche per come si comporta sui dispositivi touch scegliamo questa questa pista diciamo che l'interfaccia non è proprio intuitivissima però alla fine non è necessario avere un'interfaccia così immediata il motoscafo parte da solo non c'è bisogno di accelerare in basso a sinistra si gira cerchiamo di prendere il turbo preso scusate ma sto un attimo deconcentrato ora ho messo il turbo guardate gli schizzi insomma è davvero molto divertente poi ho questa interfaccia con le trasparenze dell'acqua gli schizzi insomma è davvero ben fatto e peccato però che per ora ci sono soltanto due piste e due tipi di motoscafo però insomma come prima versione ahia ho fatto un incidente ora sta prendendo fuoco la barca come potete vedere ora tra poco si dovrebbe rimettere a posto solo eccola qui ho preso il turbo ah oltre al turbo si può anche saltare quando si prende la bombola di guardate aspettate ecco non gira non si sa perché ecco che ora sta girando ah si può giocare sia con con la tastiera che con il touch che addirittura anche con l'accelerometro anche se purtroppo l'accelerometro dell'HP Elitebook sul quale stiamo provando il gioco non 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 è proprio perfetto cioè non è proprio adatto a questo genere di di giochi infatti serve soltanto alla rotazione dello schermo quindi non non può essere sfruttato e comunque che dire il gioco è bello le le piste sono anche abbastanza lunghe quindi non non ci si scoccia subito però insomma niente male ah è un gioco Xbox Live e quindi insomma è certificato da Microsoft e si vide mi ha fatto un salto e ora siamo arrivati mettiamo un po' di turbo eccoci qui ultimi perché stavo distratto a parlare però vi posso assicurare che non è difficile arrivare i primi e per ora non si possono comprare altre altre barche non si può non si possono scegliere altre percorsi che infatti ne sono solo due con i prossimi aggiornamenti sarà anche possibile fare una sorta di carriera e diciamo che lo aspettiamo vivamente perché davvero è fatto bene speriamo anche in un miglioramento della grafica anche se questa grafica è così non troppo pesante ma comunque carina mi permetterà sicuramente di funzionare bene anche su computer su tablet slit con processori di quelli da basso consumo e che dire provatelo perché anche con una tastiera è molto divertente un saluto da Adriano ciao